La sicurezza si impara anche a scuola, l'iniziativa di INAIL, Ufficio Scolastico Regionale, rivolta agli alunni delle superiori. Ce ne parla Marco Gervino. Un flash mob dove in ballo c'è la sicurezza. Definita così perché raduna pur virtualmente centinaia di ragazzi, si chiama Testiamo la sicurezza, l'iniziativa dell'Ufficio Scolastico Regionale e di INAIL Liguria, proposta oggi a tutti gli istituti secondari superiori della regione. Un questionario di 18 domande per capire la percezione dei ragazzi sui fattori di rischio e le misure di protezione in diversi ambiti, casa, scuola, lavoro, salute personale e alimentazione. Un tema particolarmente attuale anche alla luce delle recenti tragiche vicende che hanno visto studenti in alternanza scuola-lavoro vittime di incidenti. È un'attività che abbiamo proposto a tutte le scuole superiori della Liguria per capire la percezione del rischio nei nostri giovani e conseguentemente poi cercare di erogare un percorso formativo che sia ad hoc per loro. Questo è infatti soltanto un primo passo di un'iniziativa che vedrà poi l'INAIL protagonista nella formazione in base alle risposte ottenute dal test. Pareremo degli incontri informativi dedicati proprio ai ragazzi sulla base proprio delle risultanze di quelli che saranno i loro bisogni informativi e formativi. Un'attività di sensibilizzazione molto importante, specie negli istituti professionali come ad esempio l'alberghiera. I nostri ragazzi si preparano ad affrontare il mondo del lavoro e quando vanno in stagio e quando iniziano ad approcciarsi al mondo del lavoro devono avere una cultura della sicurezza che gli consente di lavorare in piena tranquillità. E gli studenti sembrano apprezzare l'utilità di questa iniziativa. Molto utile. Mi sento meno preparata nell'ambiente esterno. Quello che va approfondito meglio nelle scuole ma anche nel lavoro in generale.